Mentre resta alta la tensione in Medio Oriente, la salma di Ismail Anieh è arrivata giovedì dall'Iran nella capitale del Qatar e sarà sepolta venerdì. I funerali del capo politico di Hamas si sono svolti a Teheran giovedì, con la partecipazione di un gran numero di persone in lutto e di autorità locali, tra cui il presidente iraniano Masoud Pezashkian. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha avvertito giovedì che il conflitto con Israele è entrato in una nuova fase dopo l'uccisione di Fuad Shukur durante un raid aereo a Beirut in Libano. Nasrallah ha detto che il gruppo militante è ora impegnato in una battaglia aperta su tutti i fronti. Giovedì sono stati registrati nuovi lanci di missili contro i territori settentrionali di Israele. Il portavoce militare israeliano Daniel Agari ha dichiarato giovedì che l'esercito è in stato di massima allerta, sia in difesa che in attacco. Le forze dell'IDF sono rispiegate in aria, in mare e a terra e sono preparate per qualsiasi scenario e soprattutto per i piani di attacco nell'immediato, ha aggiunto Agari. Il portavoce dell'esercito israeliano ha poi negato il coinvolgimento di Tel Aviv nella morte di Anie.